Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove si segnalano code a tratti per il ripristino di un incidente tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Spostandoci in A1 in direzione Roma, sono presenti rallentamenti per un incidente avvenuto al chilometro 407, tra Valdichiana e Chiusi. Per la viabilità cittadina, Firenze in Viale Amendola, fino all'11 febbraio, transito e sosta nel controviale, tra Viagiotto e il numero civico 48, interrotti all'altezza di un cantiere. Infine per i treni, fino al 10 giugno, per lavori sulla linea da Siena-Grosseto, il servizio da Buon Convento a Grosseto permane sostituito con bus. Muoversi in Toscana, è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!